pronti speriamo bene siamo a parigi prendiamo un aereo non si vede la gabrie paga poco a poco non arriva a capire boh gabrie dove andiamo? bangkok? magari? no dobbiamo andare in malesia niente malesia sai che non arriva nessuno? dobbiamo andare in vietnam? niente vietnam dove andiamo? vediamo tra 11 ore dove arriviamo? comunque andiamo al mare vabbè tra 11 ore siamo a destino ma lo diciamo tanto non ci vede no sto mica dal vivo io è buono lo stesso perché dopo metti lo metti dopo quando arriviamo ci sto solo registrando niente la gabrie non vuole non vuole dirvelo no perché mettiamo la foto dell'aeroporto adesso non vedo l'ora che ci teniamo da mangiare c'ho una fame bene 11 ore di volo fa caldo là dove andiamo ci vediamo domani viva ciao